Avevano comprato due case con i soldi dell'assicurazione della giovane bielorussia che le era stata affidata. Così la coppia di pensionati di Castrocaro, attualmente in carcere, aveva utilizzato il risarcimento di 2.200.000 euro che era stato dato nel 2014 alla giovane dopo un gravissimo incidente, dal quale ne era uscita con un 80% di invalidità. La ragazza, oggi 24enne, era arrivata in Italia nell'ambito dei programmi di protezione internazionale dei bambini di Chernobyl e per anni aveva passato il periodo estivo sempre affidata alla coppia di Castrocaro. Rimane in Italia definitivamente dopo l'incidente. Da qui, con l'aiuto di un assistente sociale, viene alla luce la storia di abusi e violenze subiti dalla giovane, violentata dall'uomo quando la compagna non era presente, anche quando era ancora minorenne e poi truffata dalla coppia. Quando viene fuori la storia della violenza sessuale, la giovane viene mandata via di casa e messa in un monolocale, non adatto alla sua disabilità, una violenza fisica ma anche psicologica condotta con l'inganno. I due pensionati, infatti, stavano facendo di tutto perché la giovane tornasse in Bielorussia, per potersi così godere il patrimonio a lei sottratto senza più temere. Oltre alla casa Castrocaro, i due pensionati avevano acquistato una casa in provincia di Trento, entrambe sotto sequestro, intestata alla figlia naturale della coppia, denunciata a sua volta a piede libero. Per i genitori le accuse invece sono di maltrattamenti, truffa, circonvenzioni di incapace e violenza sessuale solo per l'uomo, accuse per le quali a vario titolo sono scattate le misure cautelari. Alla giovane verrà restituito il suo patrimonio di 2 milioni e 120 mila euro, otterrà un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, quindi potrà finalmente riappropriarsi della propria esistenza.